benvenuti a una nuova intervista di music oggi siamo con claudine claudia ecco ti qua ciao tutto il tuo splendore vi svelo un retroscena che mi stava raccontando prima che siamo partiti con la registrazione che non è più come non deve dare un tono ulteriore al colore dei capelli perché si sta un po' scolorendo esatto però lo vedo solo io ma l'abitudine ci devo dare un incidente di percorso esatto uno dei tanti uno dei tanti benissimo oggi siamo qua è un po' tipico di solito quando si fanno le interviste le cose si fanno in occasione dell'uscita del disco proprio nei giorni adesso è passato un mese più o meno perché il tuo disco incidenti di percorso è uscito l'otto marzo giusto quindi un mesetto proprio dall'uscita e secondo me è anche carino andare tante volte a raccontare un qualcosa che è già uscito proprio perché si è avuto tutto il tempo per sedimentare per capire per sentire per per essere riusciti veramente a cogliere tante sfaccettature che magari sai il giorno dell'uscita o nei giorni prima o subito dopo non si riescono a cogliere esatto vero che cosa mi racconti un mese dopo eh vabbè un mese dopo diciamo che poi per i tempi di adesso è una vita è tantissimo è come se fosse un secolo esatto esatto già appena uscito mi sembrava anche per i tempi che abbiamo noi no nella consegna comunque è sempre un lavoro che ci si porta dietro da ancora più tempo già dall'uscita quindi un mese in più eh insomma si sente diciamo che sono molto soddisfatta di di questo disco e ho realizzato che è uscito mentre appunto nelle interviste a ridosso ero ancora un po' spaesata come dicevi tu e e niente cosa è successo in questo mese insomma modo di di fare più esperienze c'è stato anche un live quindi l'ho suonato appunto all'Apollo settimana scorsa è stato molto emozionante molto bello mi è sembrato un po' un punto di inizio l'avevo considerato come il punto di arrivo per adesso però è stato un po' un primo come si dice una prima bandierina messa lì e quindi niente dai tutto sommato sono molto contenta tra alti e bassi nella musica però sono contenta qualche incidente di percorso quelli sempre sempre ovviamente un percorso difficile poi nella vita insomma io sono anche una persona un po' diciamo che un po' sfortunata ovviamente in cose piccoline però c'ho sempre costantemente delle insomma delle sfortune degli incidenti di percorso quindi titolo appropriatissimo c'è stata qualche canzone che secondo te è uscita fuori in maniera diversa rispetto a quello che ti aspettavi magari che si è proposta cioè che magari dicevi no non pensavo che questa canzone arrivasse così alla gente eh sì è un antecedente all'uscita del disco ed è cose che si dicono io su quel pezzo appunto non non pensavo assolutamente che avrebbe riscontrato così tanta attenzione eh probabilmente anche il tema che è una cosa in cui si rivedono tutti perché parla di procrastinare quindi insomma magari è stata condivisibile appunto in questo senso da da più persone e con il disco anche Blah per quattro che era un altro pezzo che non non pensavo ma diciamo che in generale tutti quelli su cui penso ok questo è il mio preferito speriamo che arrivi ovviamente ma come sempre i lavori di cui sono più soddisfatta sono quelli che forse incontrano un pubblico un po' più ristretto però è sempre così Blah per quattro mi ha fatto impazzire anche me Blah grazie 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 fai in generale un po' tutto cioè mi piace questo tuo modo di di raccontare di raccontare penso dell'osservazione questi personaggi un po' verosimili che ci sono in giro nella quotidianità appunto e immagino che che li raccogli proprio come delle sorta di fotografie che ti fai nella mente per poi per raccontarli sì 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 esatto spesso i pezzi vengono tanto attribuiti a come sono io poi sicuramente sì perché sono tutte situazioni racconti persone filtrate no attraverso la mia penna però in questo disco ho osservato tanto cioè ci sono dei brani che ovviamente sono mega personali altri che invece sono un po' una mia un mio racconto di cose che ho vissuto attraverso ad amicizie insomma altre persone quindi sì ci sono un po' di spaccettature c'è uno sguardo anche oltre a me meno diario segreto come invece era l'EPI che era un po' più sempre uno sfogo un po' più introspettivo da distanza appunto di un mese cambieresti qualcosa nel disco aggiungeresti qualcosa toglieresti qualcosa cioè se potessi no assolutamente sono proprio contenta così nel senso che ci ho messo tanto per trovare un equilibrio perché io sono proprio sia personalmente che poi a livello artistico divisa in tante in tanti contrasti e pensavo di far fatica insomma a dare un come si dice un un assaggio equilibrato di ogni parte di me non volevo un disco troppo non so con troppe ballad o pezzi troppo up piuttosto che pezzi troppo lenti insomma in realtà alla fine senza cercarlo in modo assiduo ma è arrivato naturalmente che ho detto che questi dieci pezzi in realtà raccontano un po' tutto perché abbiamo quelli un pochino più appunto up radiofonici le ballad quelli che poi live invece insomma fanno divertire perché con un BPM più spinto cassa dritta e in tutto ciò comunque ci vedo una coerenza no un legame tra tutti i pezzi quindi sono devo dire che sono molto soddisfatta dai ascolta tu l'hai presentato live mi sembra il 27 all'Apollo a Milano e questo è un primo concerto di una serie di concerti che farai nei prossimi mesi cioè c'è già qualche qualche idea di tour di live stai lavorandoci allora ci stiamo lavorando quindi a breve dovrei annunciare diciamo un po' di date ma comunque stiamo ancora lavorando in questo senso esatto 27 è stata proprio la prima data da sola in cui portavo il disco è stata proprio speciale cioè il fatto di sentire che quel palco era tutto per me quindi la possibilità di giocare di più avere tutto il tempo a disposizione mi ha dato tanto mi ha sbloccato molto mi sono divertita un sacco e sono super contenta di questa nuova formula live che poi porteremo su altri palchi ascoltami una domanda un po' marzulliana cioè in una settimana da dio racconti di una relazione un po' complicata dove sovrastimi qualcuno una persona stai sovrastimando qualcuno in questo periodo che tu pensi o stai sottostimando qualcuno cioè in generale un qualcuno un qualcosa ok allora in generale dipende perché io appunto un giorno così giorno dopo cosa quindi insomma è molto vario diciamo che se vogliamo parlare di qualcosa di indefinito ogni tanto cado un po' nel tranello di sovrastimare come dire l'ascolto no come si dice il percorso a volte non mi godo tanto le tappe che sto facendo siamo tutti un po' vittime no degli ascolti di tutte queste cose che visualizziamo come valutazioni invece alla fine sono un po' anche il risultato di altre dinamiche ogni tanto vado a sovrastimare questa cosa ogni tanto invece la sottostimo molto quindi un po' un mix di robe però direi questo di persone in realtà no devo dire che sono abbastanza dai c'è una visione abbastanza bilanciata va bene va bene tu sei anche illustratrice giusto? esatto quindi hai una sensibilità anche artistica oltre che musicale artistica creativa cioè ti ha aiutato in qualche modo nella tua carriera di cantante questa tua capacità illustrativa che comunque è un talento cioè come si è inserito dentro nella musica cioè a parte quello di realizzare tutto il dintorno che ne so visual video eccetera eccetera allora nel lato pratico un po' il fatto di che è una cosa magari che sembra da poco ma anche di riuscire a mettersi nei panni di chi poi deve deve realizzare queste cose qua no? perché vivi un'altra faccia vivi dall'altra parte no? di questo lavoro e quindi questa cosa insomma mi ha insegnato anche dal punto di vista musicale e poi sicuramente a dare un aspetto visivo alla musica non solo appunto limitato al realizzare la copertina eccetera ma proprio percepire il progetto in modo un pochino più vasto vario cioè ad esempio adesso mi sto buttando anche nel merch e mi piace un po' avere proprio questa visione non ti dico imprenditoriale no? però capito c'è molto d'artigiano no? della musica di tutto ciò che sta attorno quindi cercare di sviluppare la creatività al massimo sicuramente questa cosa mi ha aiutato perché anche nella scrittura comunque visualizzo subito delle immagini un possibile videoclip e questa cosa mi aiuta molto sia se poi effettivamente lo posso lo devo realizzare sia anche semplicemente poi dal punto di vista comunicativo magari a sviluppare la scrittura anche su altre no? dimensioni perché appunto c'è stato tutto sto viaggione in testa quindi boh varie cose poi appunto come dicevi tu dal punto di vista pratico proprio nell'effettivo mi ha aiutato appunto sulle copertine su altre cose insomma è stata una roba in più ultimissima domanda che ti faccio parlavamo appunto di progetto visivo c'è in programma l'uscita di un video di qualcosa di visivo anche tuo? al momento no in realtà ni nel senso che io comunque pubblico spesso magari degli spezzoni dei piccoli video fatti da me quindi comunque materiale video ci sarà sempre video ufficiale no però ad esempio abbiamo realizzato una serie di riprese del live sulle quali stiamo lavorando che penso diventeranno qualcosa di più a livello di cioè su Bevo ci stiamo ancora lavorando però ecco videoclip ufficiale di un pezzo al momento non è un programma però tutte queste cose in parallelo va bene Claudia niente allora ti ringrazio della chiacchierata grazie a te e ci vedremo presto in giro live qua e là a te e ci vedremo presto